Salve a tutti quanti, io sono Terenas e questa è la prima patch veloce del 2018. Buon anno a tuttiiii... niente. L'ottava stagione competitiva inizia il 16 di gennaio, con gli LCS che iniziano il 19. Andiamo a parlare dei singoli campioni. Prend, maggiore danno dalla passiva, senza Deathfire Touch fatica davvero tanto a risultare efficace, e quindi è un buff più che giusto. Graves, inizierà a spammare le cu quando è fiddato e il fumogeno ora ti rallenta come se ti fossi fatto. Na canetta ziii. Heimerdinger. La torretta gigante fa meno danno perché sì, fa un culo Raph. Kyle. Meno attack speed ma meno tempo di ricarica per la E. In pratica, dopo il livello 9 e il 20% CDR, Kyle è un champion ranged e non più corpo a corpo. Simpatica come cosa. Skarner. Chuck si va a fare una vacanza e la raid lo buffa, così non può sfruttare il buff e verrà nerfato di nuovo. Più stun e più danno sulla E. Zoe. Non solo le sue Q faranno meno male se usate in concatenazione la sua R, ma la sua trappolina del Menga ci mette ben 0,2 secondi in più per attivarsi a terra. Wow! Minchia! Però il true damage è giusto, sì. Il fatto che la Q praticamente non costi mana è onesto, sì sì. Aha! Certo! Piccoli cambiamenti anche alle rune con il Predator che viene reso più facile da utilizzare e le rune legate al ramo della determinazione ora non danno soltanto vita o AD AP, ma danno sempre un po' di vita e un po' di AD o AP. Per concludere, siamo tutti tornati a Honor 2 e dipendentemente da quale honor eri prima, il sistema ti piazzerà in una specifica lega honor. Ogni honor ora ha tre leghe. Per ogni lega guadagnata dopo l'honor 3 ottieni un orb, una cassa con dentro della roba. Per ogni livello honor guadagnato ottieni una capsula speciale con della roba dentro più figa. Sono dei premi in più, quindi ottenete comunque frammenti chiavi e casse casualmente. Un bonus da parte della Riot in pratica. Questo è quanto e ci vediamo al prossimo video. Bella! Ciao!